Perchè lo stai facendo? Perchè sei stata giusta con me? Mi hai difesa anche se ero tua nemica. Ersilia vorrebbe così, ne sono certa. Cosa hanno fatto Ersilia? Non lo so. Non so nemmeno dov'è che l'hanno portata. Tu puoi ancora aiutarla? Ersilia ti assomiglia molto. Vorrei tanto possedere il vostro coraggio. Eppure sei qui. Tu sai cosa è giusto fare? Se il vostro re dovesse cadere, Roma si solleverà. Per colpire mi serve solo un'arma. Perchè? Sì. Perchè? Sì.